Ecco, sono delle immagini veramente al di là di quello che potete immaginare, che colpiscono molto. Così come colpisce, vediamo Stefania se riusciamo, guardate questa immagine, è un'immagine di un biberon. Allora, chi di voi ha avuto figli, chi di voi ha figli, sa molto bene, no? Il biberon di un bambino, di una bambina di 18 mesi. Questo è un biberon, io ho fatto una piccola ricerca, dovrebbe contenere 130 millilitri di latte o acqua, no? Che non è un pasto per un bambino o una bambina di 18 mesi. Forse, addirittura, forse questi sono quelli speciali contro il reflusso, contro le colichine, quindi sono per i neonati. Sono per i neonati, sono a volte per l'acqua, perché ha piccole dosi o per la camomilla. 130 millilitri. Ma non sono mai il pasto di un bambino in crescita di 18 mesi, questo è totalmente da escludere. Questo è un biberon da neonato o da acqua e camomilla. Allora, perché però è importante, rivediamo questa immagine, perché è importante questa immagine? Perché è il momento in cui Alessia Pifferi decide di abbandonare la sua bambina e se ne va in limusina a fare questo lungo fine settimana con il fidanzato, lascia questo biberon. Noi abbiamo sempre pensato alla nostra ingenuità, la dottoressa Bruzzone, che fosse il classico biberon, quello grande. Per carità, non sarebbe comunque bastato, anche se ricordiamoci che la bimba è morta il 19 di luglio, il giorno prima del rientro di Alessia. Già è straordinario che sia riuscita a resistere comunque cinque giorni sostanzialmente senza ne bere né mangiare, cioè senza assumere neppure liquidi, peraltro con una temperatura esterna spaventosamente elevata. Però devo dirti, questa foto è emblematica di quanto veramente fosse una situazione scelerata sotto ogni punto di vista. Cioè come un conto è, gli ho lasciato un biberon, questo non è neanche un biberon, è un bicchiere sostanzialmente, cioè il volume di un bicchiere d'acqua fondamentalmente. Quindi tu prendi la tua bambina, le metti un vestitino, la metti in questo lettino da campeggio, sembra il racconto di un film dell'orrore, Piero Colaprico. L'abbiamo vista le foto. L'abbiamo vista, sì. Lasci questa bimba con questo goccio di latte e poi esci di casa. Domani ne approfondiremo meglio, diciamo, questo tema, oggi abbiamo poco tempo. C'è un altro particolare. Tu torni a casa e apri queste valigie. Guardate le valigie con cui è andata via, ecco qua. Queste sono le valigie di Alessia Piferi. E quando esce di casa Alessia Piferi si porta dietro sostanzialmente una valigia e un trolley. Questi sono i vestiti che Alessia Piferi si porta dietro, no? Si porta per fare questo fine settimana. Quindi la bambina è in questo lettino da campeggio, colorato, blu, giallo, con questo piccolo biberon da neonata per la sopravvivenza, forse una bottigliettina d'acqua, anche quelle piccole, no? Peraltro bevuta in parte, ritrovata sul tavolo di cucina, per cui non sappiamo mai esattamente. E questa invece è la dotazione della mamma, no? Per il fine settimana. E poi c'è un'altra foto che vogliamo mostrarvi, che è quella del famoso frigorifero. Perché gli investigatori a un certo punto aprono il frigorifero per vedere cosa c'è dentro. Se io dovesse vedere e guardare e giudicare questo frigorifero e mi dicessero scommetti un centesimo contro un milione di euro che in questa casa vive una bambina di 18 mesi, direi non scommetto perché non butto via il mio centesimo. Quindi questo non è il frigorifero della casa dove c'è una bambina di 18 mesi. E anche questa è una domanda. Poi c'è un'altra domanda, vi faremo vedere domani le immagini perché credo forse questa non l'abbiamo presa. Quando gli investigatori, quando la polizia scientifica di Milano, peraltro la squadra mobile ha fatto un lavoro miticoloso e come sempre molto accurato, straordinario, trova una lavatrice. E all'interno della lavatrice trova dei vestiti. E questi vestiti, a quanto ci risulta, sono umidi. E questo cosa vuol dire però? Che qualcuno è arrivato a casa e ha messo dei vestiti in lavatrice e ha fatto andare la lavatrice? Ed è questo il motivo per cui sono umidi? Anche questo è un particolare un po' strano perché quando è entrata, dice la dottoressa Bruzzone... Dipende perché allora se sono stati... Cioè, la lavatrice era chiusa, ok? Ora, umido, con sei giorni, ponendo che l'abbia fatta il giovedì, mi pare difficile ipotizzare. È chiaro che dentro, esatto, con la temperatura che c'era, per quanto, ripeto, all'interno della lavatrice, certo l'asciugatura non sarà indubbiamente ottimale perché non passa aria, quindi certamente possiamo astrattamente ipotizzare che, insomma, però, insomma, fossero... Potevano anche essere stati lavati il giovedì. Perché bisognerebbe fare un esperimento. Però, guarda, Milo, che il passaggio... Quando l'hanno aperta, però, dottoressa Bruzzone, se tu apri una lavatrice fatta sei giorni prima, l'odore che esce è spaventoso. Se non c'era odore, vuol dire che la lavatrice è stata fatta contestualmente. Quindi lei è uscita di casa, non fa letto alla bambina perché, lo ricordiamo, no? Lei dice, io avevo lavato la lenzuola e le lenzuola erano bagnate. Però lascia per sé... Mi sembra, forse ho detto una stupidata, stavo per dire lascia una lavatrice con dentro dei vestiti sei giorni, tralasciando il fatto che ha lasciato una bambina di 18 mesi per sei giorni. Guarda, io... Quindi ritiro la mia osservazione. non le ho visto.